Ero io che non avevo raccontato bene quello che avevo sentito, che non avevo fatto sentire bene l'emozione che avevo provato. Mi fasi talmente male che dici, ma ci sarà nel mondo uno che di mestiere trova le parole giuste? Che le sa mettere in un modo che quando gli batte il cuore a lui, gli fa battere il cuore anche a quell'altro? Che le sa mettere il cuore a lui, gli fa battere il cuore a lui, gli fa battere il cuore